Hey, nothing you can say, nothing's gonna train what you've done to me, now it's time to shine, I'm gonna take what's mine Buongiorno Allora, noi aspetteremo sopra gli alberi con le nostre spade drone Ok E ogni titano che interenterà di entrare dovremo ucciderlo, per quale motivo? Tu stai zitto e segui gli ordini, bravo, non l'ho anticipato Sei pronto a combattere? Sì, tecnicamente non dobbiamo fare un cazzo però Anche perché staremo lì sopra i titani vorranno prenderci, larga zapatata Cosa faresti tu invece, Jan? Sembra uno che capisce sempre cosa sta succedendo Eh, sì, circa Non avrebbe dovuto il comandante spiegare il vero obiettivo della missione fin dall'inizio? No, in realtà no Questo tipo di cose è servita solo per far morire molto più gente No, il comandante non ha sbagliato Puoi essere stato rudo Ma penso che sia stato il metodo giusto Jan, penso di non essere ancora in vita per molto Ma ci sono ancora cose che penso e credo Un umano che può cambiare definitivamente cose è definitivamente una persona Che è in grado di abbandonare tutto per qualcosa di importante Chiunque riesce ad andare avanti per un punto Oddio, questa è una cosa difficile da tradurre ragazzi Questa è una cosa molto importante È un concetto Che praticamente ogni cosa può essere sacrificata Anche le vite umane Se questo è per un bene dell'umanità in generale Se riuscite a salvare Mille persone Uccidendone 900 Questo lo dovrete fare Praticamente è questo che sta dicendo Anche se abbandonerete la vostra umanità Intanto stanno arrivando titani E noi tecnicamente non dovremmo fare niente Se fosse l'anime E invece qui dovremmo fare tutto Non siamo neanche sugli alberi Siamo per terra Vabbè Eh la madonna Poi quanti Scusami eh Io mi riempirei giusto Prima di andare Andiamo Quanti titani Ma è bello che lo mancano Hi Non l'avete fatto fuori Beh fallo fuori tu Azzopatelo immediatamente Grazie Ci penso io al colpo finale Gen tu stai fermo No Lei la vado a aiutare in qualunque momento Arrivo Me ne frega un cazzo di quelli che stanno attaccandola Scusa cavallino Ma qui faccio prima a far così Oh Chi ho colpito? L'altro? Colpito l'altro titano di merda Che è caduto qui Amico Ma amico Mi stai rompendo il cazzo Vuoi decidere di dove stare? C'è fatta a distruggerlo? Solo Gen l'ha colpito Tutto bello eh Però se I miei compagni non sono capaci a uccidere qualcuno Chi sta? Vieni tu Oh crash Anche perché sei di certo più forte dell'altro Eh Sì Adesso me lo dice Ero già andato dall'altra parte Vabbè uccidetelo Quella gamba è mia Oh Quella lì è bravissima però eh Non sembrerai mai più brava del quello che sembra Quella con la voce dell'anime Dimmi che non mi hai tolto lei Colpiva sempre tutti Ok Hi Chi è stavolta? Ah Rain Oh cazzo Attaccatelo Morto Ok Andiamo da Rainer Mastardo Ah Le abbiamo già fatti fuori Bella Madonna Rainer Per fortuna che tu sei quello più forte Fatto bene Ha fatto bene a venire qui lo stesso Andiamo Ok eccoci Siamo arrivati Questo è mio Vabbè ci penso a loro Finchè siano quelli bravi Ce la fanno Quelli a livello C Rank C diciamo Fanno cagare Adesso ci penso io E voi pensate No Non ci ho pensato io Scusate Rainer Perserci tu al collo Tu sei troppo bravo Gli ammazzi Gli fai 3000 Io gli faccio 1000 Sì sì Non me l'aspettavo altro Vorrei che fosse finita Ma va Dobbiamo prepararci Per intercettarli La ragazza patata Beh questo ci pensa Rainer Mamma mia quanto sei potente C'è gli altri Gli faccio far tutto E poi lascio il collo a Rainer Lo batto in un colpo Sì effettivamente non è facile colpire questo Mikasa Anche Connie Tutti adesso Capito che abbiamo quattro minuti Prima che arrivi Ma Farmi fare così tante robe Rainer Non ce l'hai fatta Ah non eri tu Mikasa è incazzata Sì ti abbiamo aiutato Ora andiamo E' mio quel braccio Non l'hai distrutto Oh ma distruggeteglielo Vieni Krista Gli uccidiamolo Sì niente Ci ha pensato lei Troppo brava Ah già fatto Mazzola Beh andiamo a uccidere qualcun altro Ah vabbè lasciamo perdere Niente Rainer lo fa fa Uh cazzo Ah stavolta lo voglio io Scusami Ti stai prendendo tutte le cose Rainer Ah tu sei Fai parte del supporto davvero Ormai gli eravamo dietro A sto punto Ok andiamo 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 Sasha e Connie stanno combattendo Non ho sentito combattere in casa Anche perchè tecnicamente non è ancora arrivato nessuno Beh allora andiamo dall'altra parte Ah guarda quante trappole che abbiamo qua Sì comunque Ma è stato meglio Mi spuseresti Così a caso In realtà non è tanto a caso eh Lo lasciamo stare Ok Manca un secondo Li ho eliminati tutti Eccolo lì Te pareva Spero che mi teletrasporti Perchè sono a una distanza Abnormale Allora Prima facciamo fuori Gli stronzetti Che gli vanno dietro Tanto stanno tutti guardando Da un solo punto Mazza quanti stronzetti No No non voglio lui Esplosi tutti Va bene Allora Bravissimi Ora lui Via Poi il prossimo Non lui Quello piccolino Tutti Lo fate fuori Per favore Uno piccolino Dai Sarà sì Un Tre metri Quello lì Mi sta attaccando Ok Ok abbiamo zoppato La normale Ero tu Cazzo Ora tu sei mio Odigen Ora ragazzi Ci siamo Olè Distrutto Distrutto in mezzo Secondo Ha anche preso Un bel po' Di oggetti Questa volta Oh Il titano Femmina Si è incazzato Intanto Quelli lì Girano tutti Attorno Allo stesso Titano L'unico Rimasto Ha piantato Ha piantato Assurlo Questa missione Mi sa che è durata Troppo Oh guarda Chi c'è Che la stava Torturando Tecnicamente No Non ha tentato Di sorprenderti Titani Stanno arrivando Da che direzione Tutte Simultaneamente Non puoi perdere Tentere di ucciderla Che cosa hai fatto Adesso Non ditemi Che devo affrontarli È una pazzia Ah ok Fa lui tutto Effettivamente Lui può fare tutto Difendete il titano Femmina Fino all'ultimo Strana Cosa da dire Effettivamente Vi dà l'opportunità Di uccidere Tutti I titani Più possibile Da fondo I titani Non sono Infiniti E potresti fare Anche qualcosa Tu Ritirata Se la stanno Magnando Viva Abbiamo perso Farsi mangiare Per eliminare Per eliminare Quello Quello mi serviva Quello al grado A Già Già Questo è tutto Quello che abbiamo preso Dai titani Oh la madonna Gli ho presi 44 Davvero So che dovrò vendere Un po' di roba So che dovrò vendere un po' di roba